L'altro sfortunato affoggia questa mattina. Un uomo di 42 anni, Nicola Perrone, è rimasto incastrato con le mani mentre stava rubando una ruota da un'automobile in sosta. Alle 7 di questa mattina in Viale Giotto, la periferia della città, l'uomo stava smontando, per rubarla, la ruota anteriore sinistra di un Audi Cubè. Mentre era al lavoro il Cric ha ceduto e l'uomo è rimasto incastrato con le mani tra la ruota e il Cric. Sul posto, poco dopo, è giunta una pattuglia della polizia e delle volanti allarmata da una telefonata anonima al 113. sul posto anche una squadra di vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo. Perrone è stata accompagnata al pronto soccorso agli ospedali inuti di Foggio dove è stato medicato per le ferite riportate. Nulla di grave per il 42enne che è stato poi arrestato con l'accusa di furto aggravato.